Crotone stava diventando un paradiso fiscale per queste aziende che avevano scelto questa città per continuare la loro illegale attività? Sì, certamente vi erano degli elementi che avevano fatto prescegliere alle persone di questa associazione di potersi recare qui a Crotone rischiando meno che in altre zone. In questo senso si può parlare piuttosto di discariche perché parliamo di società che non avevano nessuna possibilità di lavorare, non state svuotate, erano delle scatole vuote e quindi piazzarle qui a Crotone non comportava nessuna conseguenza nel tessuto economico se non quello di abbassare e deprimere ulteriormente il livello di sicurezza imprenditoriale in quest'area. Anche in questo campo riteniamo di voler ricominciare in maniera nuova per dire che qui non c'è impunità per nessuno. Ecco, questo è un segnale preciso che si vuole dare, soprattutto di una grande attenzione da parte della magistratura con le forze dell'ordine per mettere un freno a tutto ciò che riguarda l'illegalità. Assolutamente sì, nei limiti delle nostre energie, delle nostre forze, delle capacità e dei poteri che la legge ci consente. Vogliamo in qualunque settore, fosse quello dei rifiuti, fosse questo delle società fasulle che arrivano qui come in tanti altri che spero nei prossimi mesi di poter mostrare, veramente vogliamo cambiare pagina. Un danno allo Stato molto molto pesante. Sì, questo è un elemento importante. Decine e decine di milioni di tasse sottratte allo Stato, fornitori che non sono stati pagati, lavoratori che non sono stati pagati, distruzione di attività di tessuto produttivo, frodando gli imprenditori che invece con grande fatica affrontano i debiti e vanno avanti regolarmente. Qui c'è una frode anche nei confronti di chi lavora onestamente, di chi si sforza di far fronte ai propri debiti. Qui i debiti venivano scaricati sul nulla, cioè su di noi. Grazie.